Bene, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al terzo appuntamento con Terre del Futuro. La parola scelta questa sera per guardare lontano come recita il sottotitolo della nostra rassegna è Rivoluzione. E ne parleremo con i nostri due ospiti, Marco Guzzi, filosofo, poeta, fondatore del movimento Darsi Pace, un laboratorio di nuova umanità. L'ultima pubblicazione di Marco Guzzi ha per titolo Fede e Rivoluzione e con Diego Fusaro, filosofo, scrittore. La sua ultima pubblicazione è Pensare altrimenti, chi fosse interessato sono in vendita all'ingresso del cinema. Opinione condivisa è che mai come oggi, nel disordine globale che stiamo attraversando, si avverte, soprattutto in Occidente, un bisogno di un nuovo inizio. Ma infatti avevamo toccato un così profondo punto estremo di crisi. La rivoluzione che, come scriveva Schlegel due secoli fa, costituisce l'essenza stessa del tempo moderno, torna con urgenza a riproporsi poi nella modernità. Ma per Guzzi, animato da spirito cristiano, la rivoluzione sembra anzitutto richiedere una conversione interiore. Si tratta di un cambiamento mentale e culturale prima che politico ed economico. Per Fusaro, al contrario, Fusaro mette in guardia dall'uso inflazionato che correntemente si fa della parola rivoluzione, divenuta, dice, un concetto logoro ed onnicomprensivo. L'unica vera rivoluzione di cui non si parla più, dice Diego Fusaro, è quella politica, politico e sociale, ed è da qui che occorre ripartire. Vi ricordo il prossimo appuntamento, venerdì 27 ottobre sarà con noi Carlo Sini che ha scelto la parola memoria come caratteristiche insomma del nostro tempo. Ma prima di iniziare una brevissima lettura di Alessia Canducci. I problemi che oggi abbiamo di fronte non ammettono bacchette magiche, scorciatoie e cure istantanee, ma richiedono niente di meno che un'altra rivoluzione culturale. In tal senso, essi impongono una riflessione e una pianificazione sul lungo periodo, due arti purtroppo dimenticate e raramente messe in pratica in questi tempi affrettati, vissuti sotto la tirannia del momento. Abbiamo bisogno di recuperare e di riapprendere queste arti. Per farlo serviranno menti lucide, nervi d'acciaio e molto coraggio. Soprattutto servirà un'autentica visione globale a lungo termine e tanta pazienza. Zygmunt Bauman Bene, la serata si svilupperà in questo modo, io porrò ai nostri due ospiti due domande con tempi di risposta di un quarto d'ora e venti minuti per uno. Poi naturalmente, se volete, ci sarete voi a porre dei quesiti ai nostri due ospiti. Allora, parliamo di rivoluzione questa sera. Come sapete, quest'anno ricorre i cento anni dalla rivoluzione d'ottobre, i cinquant'anni dalla morte di Che Guevara e i cinquecento anni dalla riforma di Martin Lutero. Ma oggi, secondo voi, è ancora possibile parlare di rivoluzione? In che senso? Quali dovrebbero essere gli attori del processo rivoluzionario e a che esiti può condurre questo processo? Inizia Marco Guzzi. Bene, grazie, grazie Gustavo, grazie a tutti voi. Come sempre, Misano ci accoglie con interesse, con interesse crescente. E oggi direi che ci confrontiamo con una parola, rivoluzione, che di per sé è densa di futuro, no? Dobbiamo pensare lontano, la finalità di questo ciclo mi sembra che sia proprio quella di cercare terre mentali per un futuro. E la parola rivoluzione, anche se, a mio parere, come vedremo questa sera, va fatta risuonare in modo del tutto nuovo, ci dice di per sé che possiamo ancora salvarci. L'ultimo libro di Naomi Klein, questa giornalista canadese che è diventata abbastanza nota in tutto il mondo per la sua critica al mondo del consumismo, che nella traduzione italiana si chiama Una rivoluzione ci salverà. E oggi, infatti, io credo che siamo costretti a recuperare, a riutilizzare, sia pure in modi, come dico, inediti, e lo spiegheremo, il concetto di rivoluzione, in quanto l'intera umanità terrestre è giunta ad un punto limite, ad un punto estremo ed estremamente pericoloso. È uscita sui giornali di oggi il rapporto Lancet, che ci dice che ogni anno solamente per l'inquinamento muoiono 9 milioni di persone. E noi ci occupiamo dei cavilli della legge elettorale. Quando le nostre città sono diventate delle camere a gas. Per cui è un'intera civiltà che è arrivata, ecco il disegno, è arrivata all'estremo di una parabola, qui e qui, o torni, rivoluzione, converti, rovesci la direzione, o vai nel nulla. Per cui noi siamo costretti, e io credo sia una buona notizia questa, a ripensare seriamente il concetto di rivoluzione. Lo abbiamo ascoltato anche dalle parole chiare, nette, forti, radicali di Bauman. Siamo in un momento in cui servono nervi d'acciaio, menti lucide, cuori di leone, verrebbe da dire, qualità perdute in questo occidente di melassa, di criminalità, di menzogna dominante. Urge una nuova e radicale rivoluzione culturale, prima di tutto, culturale, o meglio, un mutamento della mente e del cuore del pianeta, dell'umanità del pianeta. Non è una cosetta, capite? Non è una cosetta. Abbiamo bisogno di un nuovo punto di vista, dobbiamo elaborarlo, perché possiamo affrontare una crisi la quale non è affatto solo economica o finanziaria, ovviamente anche economica o finanziaria, ma non attiene soltanto alle spaventose ingiustizie, disuguaglianze che crescono nel mondo, che sterminano ormai interi popoli e stanno distruggendo l'intero ecosistema. Indiretta, mi verrebbe da dire, no? Ci informano giorno dopo giorno che stiamo andando alla rovina e nel frattempo però ci inducono ancora alla crescita, al consumismo, in modo acritico, non mettendo mai insieme le cose. Dico, ma crescita verso dove? Se un momento prima mi hai detto che stiamo distruggendo il pianeta, che questo tipo di crescita è insostenibile, me lo dici tu. e poi continui a usare i parametri del PIL come unico parametro di valutazione di una civiltà, di una società, della positività di sviluppo. La crisi che stiamo attraversando non è soltanto questa, è anche questo, ma sta coinvolgendo ogni aspetto della vita umana, lo sapete, lo sappiamo, è la nostra vita quotidiana. Il matrimonio, la psiche profonda, gli affetti, l'inconscio, la scuola, la sanità, il cuore, il fegato, le malattie psicosomatiche, l'asfissia spirituale, oltre che l'asfissia dei polmoni, le chiese, le forme di governo. Perciò parliamo di crisi antropologica e la rivoluzione di cui io parlo è una rivoluzione antropologica. Un'intera figurazione antropologica, culturale, quella che, secondo gli studiosi più pensanti, residui, residuali, ben pochi e ben poco ascoltati, ma ci sono, ci dicono che questa crisi è la crisi di una figurazione antropologica, culturale, che inizia con la svolta del neolitico, non è una cosa che interessa solo gli ultimi 50 anni, capite? È una modalità di essere uomini che inizia a configurarsi nella svolta del neolitico, parliamo di 8-10 mila anni fa, lo dice bene Rifkin, un grande analista e sociologo, quando dice potremmo essere vicini alla fine di questa fase della storia, una notevole quantità di nuovi studi su ciò che rende veramente felice l'essere umano, suggerisce che la dialettica storica che ha caratterizzato la saga umana, cioè tutta la dialettica storica che ha caratterizzato la storia dell'uomo, fin dalle prime grandi civiltà idrauliche di migliaia di anni fa, cioè la svolta del neolitico, potrebbe essersi esaurita. Quella modalità di essere umani che io amo definirla, si può definire in tanti modi, ma sostanzialmente bellica, perché tutta la storia dal neolitico in poi è una storia delle guerre per il dominio del mondo, è una storia di civiltà, di nazioni, di popoli che si sono combattuti ininterrottamente per il dominio del mondo. Questa modalità è in crisi e purtroppo questa crisi, questo tramonto di un'intera figura antropologica è anche un brutto tramonto, cioè sta finendo male questa figurazione e sta finendo male perché ha assunto il volto dell'attuale sistema neoliberista globale. Cioè il sistema neoliberista globale non è che è un fungo, è l'ultima configurazione di una figurazione antropologica molto antica, molto antica. e quindi questa umanità terminale, questa umanità bellica terminale ha da una parte il volto della mercificazione universale, no? Tutto è merce, tutto è niente, tutto è sostituibile, diceva Heidegger, la sostituibilità come essenza delle cose. Nell'ultimo libro che hanno scritto Fridov Capra e Ugo Mattei, L'ecologia del diritto, viene riassunto brevemente questo aspetto neoliberista della fine di una civiltà. Il nuovo capitalismo mondiale, ancora avallato giuridicamente dalla visione meccanicistica che vede la proprietà equivalente alla libertà di occupazione di risorse inutilizzate, ha minacciato e distrutto le comunità locali nel mondo. Perseguendo scriteriate biotecnologie ha profanato la sacralità della vita, cercando la trasformazione di tutte le diversità in monocultura, la trasformazione dell'ecologia in ingegneria e della vita stessa in merce. Ha arricchito un'elite mondiale di speculatori finanziari, imprenditori e professionisti dell'i-tech ai quali viene concessa la libertà di estrazione tutelata per legge. Queste persone hanno sperimentato un accumulo di ricchezze senza precedenti, anche se le conseguenze sociali ed economiche si sono rivelate disastrose. Questo è un volto, uno dei volti di questa umanità terminale nella sua forma neoliberista. L'altro volto è altrettanto drammatico, secondo me, e lo potrei definire così, la progressiva eliminazione della libertà dell'uomo. E il bello, se volete, di questo paradosso è che oggi la libertà dell'uomo viene di fatto annientata sotto le mentite spoglie di una libertà assoluta. questo è il paradosso orwelliano. Questo filosofo molto interessante, Byung-Chul Han, che è un filosofo sudcoreano naturalizzato tedesco, in un suo libro interessante che si chiama La psicopolitica, descrive bene questa realtà di questo potere totalitario che non vieta più le cose, ma distrugge la libertà dell'uomo incrementando false libertà. Quindi, avendo tu un'infinita possibilità di false libertà, non ti accorgi nemmeno che stai perdendo la vera libertà, che è quella creativa, quella radicalmente creativa. Il potere intelligente, che è quello del neoliberismo, si plasma sulla psiche invece di disciplinarla o di sottoporla a obblighi o divieti. Si plasma. Non ci impone alcun silenzio, piuttosto ci invita di continuo a comunicare, a condividere. Andate su WhatsApp, andate su Facebook, fatevi il vostro profilo, così sarete tutti molto, molto belli e tutti vi applaudiranno e diranno mi piace, mi piace. Esserete felici di avere tanti amici. Fa pure rima. Provate a chiedere a uno di questi amici di portarvi ad una visita medica. spariscono sti amici. Spariscono. Ci invita a comunicare, a condividere, a partecipare, a esprimere le nostre opinioni, i nostri bisogni, desideri, preferenze, a raccontare la nostra vita. Dai, e racconta la tua vita a Maria De Filippi, no? Che è tanto bello, no? Fa tanto emotion, 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 sorrisino, pianite, no? So contento, uh, viva! Questo potere intelligente è per così dire più potente del potere repressivo. si sottrae a ogni visibilità. La crisi della libertà nella società contemporanea consiste nel doversi confrontare con una tecnica di potere, qui c'è tutto Foucault, eh, ovviamente, che non nega o reprime la libertà, ma la sfrutta. La libera, virgolette, scelta, cioè quella vera, viene annullata in favore di una libera selezione tra le offerte, no? La famosa battuta di Henry Ford. I miei operai sono assolutamente liberi di scegliere il colore dell'automobile che vogliono, a condizione che sia nera. Quindi, ecco perché, cari ragazzi, siamo costretti a parlare di rivoluzione. Non è un orpello, non è un optional. Oggi, pensare vuol dire essere rivoluzionari. Poi dovremo capire come, avremo tutta la serata per capire qualcosa, tutto no. Ma è ovvio che se tu vuoi essere ancora un uomo, una donna, vivi, non puoi che gridare al bisogno di un rivolgimento radicale, come dice Bauman, come dice Rifkin, come dice il Papa, che parla esplicitamente di rivoluzione culturale, come dicono i pensanti e i senzienti, mi verrebbe da dire, cioè chi ha ancora anche un cuore oltre che una mente. Ed ecco perché, a mio parere, le proposte riformistiche che non comprendono e rimuovono la radicalità della situazione, perché tutti vogliono il cambiamento, no? We can, we can. Si è visto, no? Si è visto otto anni di Obama, che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto Trump. Questa è la storia, pari pari. Quindi, le proposte solo riformistiche sono, a mio parere, del tutto illusorie, se non addirittura collaborazionistiche, aggravanti e collaborazionistiche, cioè negano, nascondono la verità delle cose. Ci spostano l'attenzione su piccoli particolari critici, sottraendoci la visione del vero problema, che è radicale, ragazzi, radicale, veramente radicale, di sopravvivenza, e a breve. Ora, poi vedremo, ragazzi, che io, come voi, voi mi conoscete, sono vent'anni che vengo qua, io la vedo bene, sta cosa, eh? Io la vedo molto bene, cioè io sono contento che l'umanità egoico-bellica iniziata col Neolitico entri in una crisi radicale, non è che mi piacesse tanto, non è che mi piacesse tanto il mondo egoico-bellico, capisco che ci sia lo sviluppo della storia, non è che voglio qui negare la funzione dell'evoluzione e della dialettica nella storia, però non è che io sia triste perché crollano gli imperi, diciamo, asburgici, perché crollano gli stati etici, io non sono così triste, non ne ho nessun rimpianto, alcun rimpianto, per me il futuro è in avanti, il meglio è in avanti, lo dobbiamo costruire, è rischioso, ma è in avanti, io sono allievo della poesia del ventesimo secolo di René Char, le retour est en avant, le retour est en avant, il ritorno è in avanti, la rivoluzione è in avanti, è l'avvenire, si sarebbe detto in altri tempi, e quindi io dico, bene, siamo alle soglie di un vero e proprio salto di umanità, alleluia, alleluia, l'importante è capire come io, voi, riusciremo a viverlo questo passaggio, questo è l'unico vero problema, ma di per sé un passaggio evolutivo, una transizione antropologica culturale, non è un fatto negativo, è un grandioso fatto nello sviluppo misterioso della storia del cosmo, che non a caso noi oggi stiamo raccontando per la prima volta interamente, non è un caso che noi solo oggi raccontiamo l'intera storia del cosmo fino a me che la dico, questo è anch'esso il segno di un passaggio misterioso di umanità. Per concludere questo primo ciclo che abbiamo dato 20 minuti, io sto a 17, io sono un radiofonico quindi mi attengo ai secondi più che ai minuti, quindi ho tre minuti, bravo, vedi? Voglio dire, per lanciare un po' di materiale in questo dialogo tra voi con Fusaro, che io credo che questa rivoluzione antropologica possiede caratteri a mio parere diversi dalle rivoluzioni che abbiamo sperimentato nel ciclo giacobino comunista del 1789-1989. È chiaro che anche quelle avevano dentro, lo vedremo, elementi di questa rivoluzione antropologica sono collegate, però noi oggi ci troviamo di fronte ad una idea e ad una necessità di rivoluzione diversa. Vediamo subito alcuni caratteri di diversità. Il primo è che proprio è una rivoluzione antropologica, quindi sarà molto lunga. Una rivoluzione antropologica richiede secoli, ragazzi, non accade per bruschi eventi più o meno cruenti, tipo la presa della Bastiglia, tipo il Palazzo d'Inverno, ecco, non è così, non accadrà così. Le immagini che oggi la parola rivoluzione ancora evoca in noi sono immagini di sangue, sono immagini di distruzione. Ecco, io vorrei che l'immagine che dovrà fiorire in noi proprio perché questa rivoluzione possa accadere, perché se no non accadrà semplicemente, dovranno essere molto diversi. Una curva molto dolce, così, un curvare. Dobbiamo recuperare il significato astronomico del concetto di rivoluzione che nasce in astronomia ad altra parte. La rivoluzione è il moto circolare di un pianeta. Dobbiamo immaginare questa rivoluzione come un tempo allegro, sia pure difficile, che non abbia proprio niente di cruento, niente di cruento, né di violento. Noi non vogliamo ammazzare nessuno, io perlomeno non voglio ammazzare proprio nessuno, io vorrei che si smettesse di ammazzare. non è una rivoluzione contro qualcuno, è una rivoluzione contro un sistema delle cose, questo certamente, ma non esclude nessuno, è un appello per tutti noi ad un cambiamento che è un cambiamento di sopravvivenza e di rigenerazione. Tutti, anche politicamente, sono convocati a questo, che siano ex comunisti, che siano ex fascisti, che siano ex democristiani, che siano sono tutte le forze politiche arrivate ad una fase terminale che richiede una rigenerazione profonda, direi una conversione profonda. Quindi, io vorrei che questa rivoluzione evocasse in noi immagini come quelle di una danza, come di un giro di danza, qualche cosa di planetario, di stellare e di festoso. Un altro grande poeta come Dylan Thomas diceva turning and burning, turning, tornando e bruciando. Ecco, noi compiremo questa rivoluzione tornando, ricordando e bruciando, allegramente. Ancora René Char diceva nel 75 rivestitevi avanti un altro, questo è l'ordine e l'altro che segue, la nuova umanità che segue, siamo ancora noi, rivoluzione che un astro modifica con le mani che noi vi aggiungiamo. La rivoluzione antropologica è in atto, ragazzi, aspetta che aggiungiamo le nostre mani. Allorché si impiega il concetto di rivoluzione oggi credo che il primo gesto del pensiero critico debba essere quello di sollevare il dubbio, di diffidare addirittura. Il concetto di rivoluzione è indubbiamente uno dei più ubiquitari e insieme dei più scivolosi e impiegati in maniera inopportuna. Proverò dunque nel mio intervento a mostrare perché oggi dobbiamo diffidare ogni qual volta leggiamo o udiamo la parola rivoluzione che viene non a caso impiegata negli ambiti più disparati dalla rivoluzione del marketing alla rivoluzione della moda, dalla rivoluzione della tecnologia alla rivoluzione delle imprese fuorché come cercherò di mostrare nell'ambito che più specificamente gli è pertinente cioè l'ambito socio-politico ma prima di dimostrare quanto sto dicendo mi consentirete di fare un brevissimo percorso storico-filosofico nell'idea di rivoluzione e di scandire i tre momenti fondamentali che nella storia del pensiero occidentale hanno portato alla genesi allo sviluppo e alla definizione di questo concetto il concetto di rivoluzione contrariamente a ciò che siamo soliti pensare noi che in qualche modo siamo figli della modernità o che comunque l'abbiamo attraversata è qualcosa che ha a che fare con la rottura con l'apertura di uno spazio nuovo imprevedibile che schiude l'orizzonte dell'avvenire di un avvenire che comunque lo si intenda è indeducibile dalle regioni del passato ebbene nel mondo premoderno il concetto di rivoluzione veniva impiegato con ben altra accezione nel mondo premoderno il concetto di rivoluzione era un concetto che nulla aveva a che fare con l'ambito politico con cui lo impiegherà e lo declinerà la modernità e nella premodernità ancora il concetto di rivoluzione nulla aveva a che fare con l'apertura di un futuro ignoto gli antichi utilizzavano il concetto di rivoluzione in un'accezione prettamente astronomica che alludeva segnatamente alla circolarità del movimento dei pianeti ancora Copernico con la modernità che già preme alle porte scrive un testo che è letteralmente epochemachend epocale segna da un certo punto di vista la genesi della modernità e diventa esso stesso metafora assoluta della modernità se è vero come è vero che l'immagine della rivoluzione copernicana è l'emblema della modernità tutta Copernico scrive nel 1543 il De Rivoluzionibus Orbium Celestium dove il concetto di rivoluzione in questione nell'accezione classica allude all'andamento circolare dei moti dei pianeti dove il punto di inizio e quello di fine coincidono il movimento circolare dei pianeti è quello che meglio imita come già aveva insegnato Platone nel Timeo l'eternità dove appunto inizio e fine sempre di nuovo coincidono secondo un movimento ricorsivo in forza del quale la circolarità riproduce nel tempo l'eternità il tempo stesso diventa immagine mobile dell'eterno questa è la prima accezione del concetto di rivoluzione la seconda accezione vede uno slittamento semantico fondamentale in forza del quale il concetto continua ad alludere a un movimento circolare ma non più riferito all'ambito naturale astronomico comincia a politicizzarsi il concetto allude bensì sempre a un andamento circolare dove inizio e fine coincidono e tuttavia viene applicato per la prima volta all'ambito politico e in questo senso che ad esempio Thomas Hobbes il padre della filosofia politica moderna scrive in riferimento alla rivoluzione inglese che egli ha visto in prima persona in maniera potremmo dire con terrore sgomento ed è anche di questo che risente fortemente la sua filosofia politica a differenza di quella di John Locke che assiste a una rivoluzione più gentile potremmo dire gloriosa come anche viene detta e che esso stesso risente di ciò Thomas Hobbes parla di rivoluzione in ambito politico ma sempre con questa accezione circolare scrive in riferimento alla rivoluzione I have seen in this revolution a circular motion ho visto in questa rivoluzione un movimento circolare perché? perché si è partiti dall'esperienza monarchica realmente esistente i rivoluzionari Cromwell hanno ghigliottinato il re e poi si è ritornati di lì al ripristino della monarchia quindi il movimento è circolare si supera la monarchia per poi ritornare ad essa il movimento è circolare come quello dei pianeti ma non è più riferito all'ambito specificamente astronomico comincia ad avere una valenza chiaramente politica terzo passaggio decisivo ed entriamo a pieso spinto nell'evo moderno sia quando il concetto di rivoluzione prende ad alludere a una dinamica riferita all'ambito politico ma che nulla ha più a che vedere con l'andamento circolare e in questa accezione che la troviamo nel 1770 in Diderot il quale immaginando un avvenimento epocale a venire e di fatto precorrendo ciò che avverrà in concreto con la rivoluzione francese pone una domanda quale sarà l'esito di questa rivoluzione Hobbes non avrebbe avuto alcun dubbio nel prospettare una risposta l'esito della rivoluzione sarà il ritorno a ciò che già c'era secondo l'andamento circolare proprio di ogni rivoluzione Diderot invece risponde in maniera inconfessabilmente nuova rispetto a tutto ciò che vi era stato prima risponde on l'ignor non si sa l'esito della rivoluzione è indeducibile dall'esperienza del tempo passato perché la rivoluzione per la prima volta prende a indicare non più un ritorno all'origine bensì una rottura con l'origine una frattura netta nell'ordo temporum e un'apertura verso una distesa aperta che non è deducibile dall'ordine del tempo la rivoluzione inizia cioè a indicare una frattura nella sequenza storica inaugura qualcosa di nuovo che non può essere in alcun modo previsto ecco allora che l'esperienza del tempo propria dei moderni a partire almeno dal levo illuministico allude a una temporalità futurocentrica aperta verso la dimensione del non ancora di cui la rivoluzione è in qualche modo il segnalatore semantico se non principale comunque portante la rivoluzione è di tutte le esperienze della politica e della temporalità moderna quella più espressiva la rivoluzione indica la rottura con il passato e non più ritorno ad esso non è certo un fatto estemporaneo che tutte le grandi rivoluzioni che hanno costellato l'epoca moderna abbiano inteso l'evento rivoluzionario come anno zero della nuova epoca la rivoluzione francese così ha inteso se stessa la rivoluzione bolshevica così ha inteso se stessa la rivoluzione fascista così ha inteso se stessa si è sempre data una ricalendarizzazione in forza della quale proprio perché la rivoluzione segnava una cesura irrecuperabile rispetto al passato e tale per cui occorreva ridefinire l'ordine del tempo a partire dal novum che faceva irruzione nella storia con l'evento rivoluzionario è in questo senso che la modernità come poc'anzi ricordavo si apre all'idea di un futuro indeducibile dal passato un futuro in grado di calamitare magneticamente le aspettative degli abitatori della modernità che prendono da quel momento in poi a concepire il presente come un semplice ponte mobile tra il passato e il futuro tra il già stato e il non ancora stato il presente cioè prende ad assumere un senso semplicemente in riferimento al futuro di cui è tappa preparatoria e in questo senso che possono essere lette esperienze pur molto eterogene che hanno costellato l'epoca moderna di cui voglio menzionarne qui Anpassan Alcune nel 1800 Fichte in un'opera intitolata La destinazione dell'uomo scrive che il suo animo letteralmente non può trovare pace nel presente esso è attratto irresistibilmente dal futuro e dal meglio dove ciò che colpisce della affermazione di Fichte è l'identificazione automatica e quasi commovente tra il futuro e il meglio il futuro è senza riserva identificato con il meglio anche Kant quando compone il suo testo di risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo 1783 pone una domanda che merita di essere richiamata Kant pone la domanda secondo quella che Foucault indicava come la nascita dell'ontologia dell'attualità cioè la prima volta in cui la filosofia non si pone più la domanda sull'eterno ma sul senso del proprio presente storico in cui opera e vive il filosofo Kant domanda viviamo noi in un'epoca illuminata? No viviamo in un'epoca di illuminismo dove appunto il processo in corso si sta dispiegando e rinvia un futuro che non vi è ancora ma in nome del quale agiamo nel presente l'idea stessa di Aufklärung in tedesco richiama questa questa dinamica che si dipana nel tempo storico ancora Hegel nel 1807 quando scrive il suo capolavoro filosofico quel romanzo di formazione della coscienza che è la fenomenologia dello spirito interrogandosi sul presente lo intende come un'epoca di trapasso e gestazione albeggia cioè nell'epoca dei contemporanei prima o immediatamente dopo la rivoluzione la grande rivoluzione francese l'idea che l'epoca sia in quanto tale rivoluzionaria che si siano rotti i ponti con il passato Hegel celebra come sappiamo la rivoluzione francese fin nei suoi esiti più sanguinari anche il terrore ebbe qualcosa di necessario a dire di Hegel in maniera non poi così diversa lo stesso Fichte aveva celebrato la rivoluzione francese a tal punto da concepire il suo progetto trascendental filosofico della dottrina della scienza come un monumento alla rivoluzione francese come una sorta di ontologia della rivoluzione fino ad arrivare naturalmente ai rivoluzionari di professione filosofi e non a partire da Carlo Marx che definisce con il suo tocco di fine scrittore le rivoluzioni come le locomotive della storia ecco io credo che questa esperienza squisitamente moderna della rivoluzione questo modo di concepire la rivoluzione come frattura epocale come apertura di un novum indeducibile dal passato si sia nell'immaginario condiviso esaurita essenzialmente a partire dal 1989 a partire cioè da quella data epocale in forza della quale non siamo più in grado di pensare un'immagine di futuro altra rispetto a quella dell'eterno presente infinitamente riprodotto così com'è l'epoca dell'eterno presente della desertificazione dell'avvenire è l'ordine del senso di un'epoca che si eschiusa non a caso con il teorema dell'end of history end of history che è rideclinato dal nostro punto di vista non è altro in fondo che è una messa in congedo di ogni possibile idea di rivoluzione se per rivoluzione l'evo moderno aveva inteso come abbiamo sottolineato poc'anzi l'idea di una rottura nel tempo storico in vista di un futuro altrimenti strutturato se la storia si è esaurita si è consumata nelle sue strutture di fondo non è possibile auspicare un futuro diverso altrimenti strutturato questo è l'ordine di senso l'immagine condivisa di senso che si è venuta profilando nell'epoca della fine della storia si possono menzionare anche in questo caso molteplici testimonianze di quest'epoca voglio ricordare semplicemente tra le tante possibili l'espressione con cui chiudeva il suo ultimo capitolo del suo libro sul comunismo François Furet il quale diceva eccoci condannati a vivere nel presente il presente come condanna e la condanna del presente diceva siamo condannati al presente non c'è possibilità di fuga rispetto al presente stesso ecco questo scenario dominato dal cupo teorema dell'endovistori paradossalmente lascia coesistere al proprio interno l'immagine granitica di un tempo intrasformabile che non lascia spazio al futuro e all'apertura del novum e insieme il proliferare di concezioni diverse molteplici della rivoluzione le quali tutte però mai vanno letteralmente ad alludere a ciò con cui i moderni avevano all'uso quando parlavano di rivoluzione la rivoluzione oggi comunque la si intenda e la si declini non allude più a una rivoluzione del modo della produzione avrebbe detto Marx a un'epoca di gestazione e trapasso verso qualcosa di nuovo avrebbe detto Hegel alla rottura con il vecchio allude semmai sempre alla conservazione dell'esistente del modo della produzione del quadro storico dello spirito del tempo dove cambiano tutte le forme ma resta immutata la sostanza del tempo ecco perché come ricordavo in apertura oggi le molteplici forme con cui si parla di rivoluzione hanno sempre a che fare con singoli aspetti della realtà i quali mutando rapidamente non vanno mai a toccare il modo della produzione che persiste stabilmente nella sua essenza ecco perché oggi se volessimo riprendere la metaforica impiegata da Max Weber potremmo dire che il nostro presente onnipresente si presenta come una gabbia d'acciaio dalle sbarre inossidabili al cui interno proliferano vorticosamente i valori il politeismo dei valori le diversità le screziature le trasformazioni sempre più rapide abbiamo dunque a che fare con quello che in un mio lavoro definivo il nichilismo dell'accelerazione la fretta senza futuro la trasformazione scissa dall'idea dall'immagine di un futuro alternativo il futuro resta graniticamente condannato a riprodurre il presente nell'immaginario condiviso e insieme si hanno continue trasformazioni di più la rivoluzione stessa viene concepita in funzione del mantenimento dell'ordine esistente la rivoluzione cioè così potremmo anche dire è stata metabolizzata dall'ordine del discorso dominante ciò che invera il discorso che a suo tempo fu pronunziato da Walter Benjamin quando disse che nemmeno i morti saranno al sicuro se il nemico vince e questo nemico non ha smesso di vincere ecco allora che le stesse parole chiave della modernità vengono metabolizzate dal discorso dominante che le usa ad usun sui per garantire la propria conservazione il proprio permanere illimitato ecco allora che oggi nel tempo dell'eterno presente a futuro negato si parla di rivoluzioni colorate si parla di rivoluzione conservatrice di rivoluzione liberista e si parla naturalmente di riforme di un sistema che continuamente si riforma che continuamente cambia per mantenere se stesso logica già chiara nella sua struttura a Carlo Marx quando nel manifesto del partito comunista a dispetto della vulgata marxista ancora così radicata nell'immaginario comune mostrava come il modo capitalistico della produzione lungi dall'essere conservatore o addirittura reazionario è intrinsecamente progressista se non rivoluzionario è l'unico modo della produzione scriveva Marx che per mantenersi identico a se stesso deve continuamente mutare i suoi presupposti continuamente mutare i suoi presupposti pensate allora alle costanti incessanti e telluriche rivoluzioni nella new economy nella robotizzazione della produzione nella riorganizzazione del mondo del lavoro espressione tra le più orwelliane che spesso nasconde anzi quasi sempre nasconde licenziamenti e riorganizzazione a vantaggio di una sola delle parti nel conflitto ecco allora che tutte le principali forme del pensiero contemporaneo utilizzano la rivoluzione in questa chiave per conservare l'esistente così com'è ho menzionato le rivoluzioni colorate le rivoluzioni colorate sono essenzialmente dall'89 ad oggi quelle rivoluzioni che vanno a colpire artatamente gestite dal modo della produzione dai suoi funzionari quelle aree del mondo non ancora allineate con il modo capitalistico della produzione con il nuovo ordine mondiale americano centrico post 1989 vengono puntualmente destrutturate destituite tutte quelle forme di governo non allineate sempre con rivoluzioni che appaiono genuinamente animate dal basso e che poi si rivelano in realtà artatamente gestite dall'alto il pensiero stesso dominante oggi dicevo continuamente impiega la parola riforme riforme del lavoro riforme della scuola riforme della costituzione financo con il solo obiettivo non di produrre un modo della produzione altrimenti strutturato bensì di mantenere e di rinsaldare l'ordine capitalistico esistente le riforme sono puntualmente quelle con cui il capitale riforma se stesso per mantenersi per incrementarsi per rinsaldarsi ecco allora che in estrema sintesi e a mo' di conclusione provvisoria sono convinto che occorra pensare altrimenti rispetto allo scenario presente rovesciare le mappe del pensiero senza la capacità di prospettare una teoria rivoluzionaria non può nemmeno esservi un movimento rivoluzionario che sia rivoluzionario nel senso della modernità e non dell'evo schiusosi con il 1989 e per pensare altrimenti occorre anzitutto comprendere che il vero modo per essere rivoluzionari oggi significa non perseguire le rivoluzioni del progresso della tecnica della scienza e quant'altro assumendole come unico paradigma della rivoluzione ma significa invece rivoluzione nell'ambito sociale anzitutto del modo della produzione occorre rovesciare lo schema dominante di pensiero in questo senso ecco perché oggi occorre per resistere al dilagare della forma merce del capitale essere rivoluzionari nel senso di frenare la rivoluzione che il capitale fa per conservare se stesso opporsi alle riforme del lavoro oggi nella misura in cui esse vanno a distruggere i diritti acquisiti e le conquiste sociali significa tanto per intenderci essere autenticamente rivoluzionari anche se nel gioco delle parole invertite con cui la neolingua capitalistica manipola e organizza il discorso pubblico si sarà immancabilmente bollati come retrogradi premoderni quando non direttamente come fascisti stalinisti e con mille altre espressioni desunte dalla neolingua ecco allora che credo che questa sia la posta in palio fondamentale per ripensare la rivoluzione e per essere autenticamente rivoluzionari e per non essere arruolati tra le fila peraltro popolosissime dei rivoluzionari di sua maestà il capitale cioè coloro i quali vengono celebrati dal sistema mediatico permanente come i pensatori più rivoluzionari dell'occidente nella misura in cui col loro pensiero rivoluzionario saturano lo spazio mediatico dell'immaginario della rivoluzione e illudono le masse circa il fatto che quello sia il pensiero più rivoluzionario quindi occorre essere rivoluzionari tornando a pensare l'essenza del reale come animata dal possibile come trasformabile o come diceva Adorno con una frase che mi piace sempre citare dalla dialettica negativa solo se ciò che c'è si lascia pensare come trasformabile ciò che c'è non è tutto con rivoluzione si intende come è stato detto una trasformazione radicale ma questa trasformazione segna sempre secondo voi anche un avanzamento della civiltà umana più in generale secondo voi è rintracciabile una dinamica progressiva sottesa alla storia o al contrario il corso degli eventi non tende altro che ad alcun fine e mutatis mutandis la sostanza delle cose in fondo non cambia bene belle domande dunque credo che abbiamo capito che la modernità è in fondo l'epoca che si annuncia come l'epoca della novità rivoluzionaria Schlegel diceva che la rivoluzione è la chiave di comprensione di tutta la modernità e in tutti gli ambiti della modernità è il tempo del nuovo la scienza nuova il mondo nuovo l'uomo nuovo ecco io credo che dobbiamo innanzitutto capire che questa idea di una novità assoluta che irrompe nella storia è un'idea cristica cioè non è un'idea che cade dal cielo o che c'era prima no è un'idea messianica è un'idea che irrompe nella storia della civiltà con l'evento di Cristo il quale si annuncia appunto come il nuovo testamento la nuova creazione il nuovo uomo il novum che non c'era prima e non era assolutamente prevedibile e che rivela la natura direi appunto rivoluzionaria nel senso di creativa della presenza umana sulla terra rispetto ai paradigmi precedenti di tipo ciclico o naturalistico comunque sia su questo si dovrebbe discutere ma insomma dalla Grecia ma andando fino in India ecco il paradigma cristologico messianico è il paradigma dell'annuncio della novità assoluta che irrompe nella storia e la spezza in due un evento che spezza in due la storia prima di Cristo e dopo Cristo questa è la rivoluzione ora in breve questa impulso di novità assoluta di nuova umanità un'umanità libera un regno di libertà un regno di giustizia un regno di pace che è fondato però su un uomo completamente nuovo riemerge qui si potrebbero fare tanti discorsi ma non abbiamo tempo 15 minuti Gustavo sta là con la Glessidra mi chiude il rubinetto ma diciamo che riemerge in maniera forte con la modernità dal 14esimo secolo se vogliamo dare una data già emergono i primi moti politico rivoluzionari che sono tutti messianici tutti hanno un'ispirazione messianica cristologica il 300 il 400 tutte le persone che abbiamo detto Locke era un cristiano messianico Kant era un cristiano messianico vedeva la storia come un progresso di novità perché era radicalmente cristiano e messianico perciò leggeva la storia così Fichte non ne parliamo insomma è un mistico Fichte cristiano quindi è chiaro che hanno questo impulso questo impulso che riemerge nella storia come desiderio di nuova umanità ha un'infinità anche di controfigurazioni questo noi oggi possiamo dire nel 2017 a posteriori non vuole essere diciamo un giudizio sommario sulla storia non ci interessa ma noi oggi a posteriori siamo credo addirittura obbligati a capire i fallimenti e le cause dei fallimenti di questi moti rivoluzionari che finiscono appunto spesso nel terrore e nel sangue e nel fallimento della stessa rivoluzione no? allora la mia impressione che naturalmente qui sintetizzo in due parole è che questi moti rivoluzionari secolarizzandosi specialmente a partire dal Settecento in modo sempre più esplicito cioè dimenticando la radice messianica della loro ispirazione pretendono in fondo di agire nella storia con la forza messianica cioè la forza del Messia negando il Messia prendendo il posto del Messia sostituendosi al Messia e quindi controfigurando radicalmente lo spirito del Messia e il modo in cui il Messia ha detto al mondo che procede la rivoluzione vera nella storia il suo metodo capite? allora questi vogliono essere loro l'uomo nuovo vogliono appunto aprire loro l'epoca zero l'anno zero cambiare i calendari come nella rivoluzione francese avviare ere millenarie come il nazismo che poi per fortuna durano 12 anni e sono terribili ma se noi non capiamo che queste sono delle controfigurazioni ante cristiche di uno spirito messianico da cui traggono tutta la loro forza perché se no uno si dovrebbe chiedere ma questi movimenti che sono poi catastrofici si sono manifestati come il comunismo ha prodotto 100 milioni di morti secondo calcoli più o meno approssimativi va bene in nome della rivoluzione in nome della pace in nome della giustizia e non credo che nessuno di noi vorrebbe vivere in nord corea oppure in cina perché probabilmente un incontro di questo tipo semplicemente non ci sarebbe non sarebbe permesso ok allora uno si deve chiedere perché queste catastrofi e io credo che il problema sia qui noi dobbiamo oggi capire in modo più seria più serio la radice messianica del principio rivoluzionario che l'idea di una novità assoluta che rompe nella storia per migliorarla l'idea che appunto an avant il futuro sia sempre meglio è semplicemente la fede messianica non è un ragionamento non è una filosofia è una filosofia come direbbe Schelling che si ispira ad una precisa rivelazione non è che nasce da sé non è Fichte è un cristiano un credente convinto che elabora la sua filosofia sulla base di una fede radicale e radicalmente vissuta fino alla morte noi oggi viviamo come ha detto bene Fusaro in un momento in cui questo ciclo possiamo dire ambiguamente messianico cioè che utilizza il messianismo tutte le sue parole guardate ragazzi prendete le parole del comunismo e confrontatele con gli schemi archetipici fondamentali della fede cristiana e c'è una sinotticità assoluta c'è il messia che spesso è il leader maximo può essere Che Guevara che tra l'altro nella sua icona è un po' Gesù evidentemente ci sta il partito che è la chiesa il clero l'intellettuale organico che deve portare avanti deve formare le coscienze rivoluzionarie del popolo c'è la redenzione c'è la redenzione perché è il proletariato che redime non solo se stesso ma anche gli altri redime il mondo libera tutti l'abbiamo visto ok? quindi dobbiamo capire che questo ciclo è catastroficamente finito ma non è che è finito per caso è finito perché aveva un'intrinseca contraddizione che non sapeva vedere e che ha portato a catastrofi e fallimenti per cui siamo arrivati a questo trentennio neoliberista questa specie di ghenna di ghiaccio in cui tutto è bloccato ma ci siamo arrivati per una storia purtroppo precisa allora il problema è come lo sblocchiamo sto ghiaccio come rianimiamo uno spirito rivoluzionario cioè questa speranza che il nuovo possa irrompere nella storia che la giustizia possa trasformare i rapporti sociali economici umani dove andiamo a prendere le energie ragazzi perché alla fine è un fatto energetico la rivoluzione è un fatto anche vitale di energie vitali dove le andiamo a prendere siamo un'umanità ridotta al merluzzo lesso ecco perché le tematiche chiamiamole spirituali secondo me non sono un optional se noi non capiamo che dobbiamo e possiamo oggi attingere ognuno dentro di sé e in gruppo le forze spirituali profonde fresche che ci sono da dove le apprendiamo la forza la fede la fede mi capite non la fede teologale ma questa è una fede la rivoluzione è una fede ecco perché il mio libro si chiama fede e rivoluzione la rivoluzione non si fa per un ragionamento nemmeno per interessi non bastano lo dice bene Garodi nella voce la rivoluzione proprio del novecento non so se l'hai vista è molto interessante la rivoluzione richiede certamente degli interessi ci sono ed è ovvio che ci sia ma non bastano gli interessi ci vuole una visione un'utopia una profezia perché la rivoluzione moderna anche nelle sue controfigurazioni è profetica nasce messianicamente ma anche Marx nasce messianicamente le sue radici ebraico-messiani che sono fortissime non è che lo dico io quindi la rivoluzione questo cambiamento interiore e economico spirituale e politico non più separabilmente ecco lo dice bene per esempio in una nota Leonardo Boff dell'ultimo suo libro in ultima analisi un mutamento nella nostra visione del cosmo perché dobbiamo anche pensare la realtà cosmica in un altro modo già lo stiamo facendo attraverso la scienza noi sappiamo che siamo molto interrelati siamo una comunità vivente ma non solo a livello morale a livello sostanziale cioè a livello fisico capite bene che sviluppare una coscienza di questo genere ci porterà anche a comportamenti forse politici economici un po' diversi perché capiremo che se per 10 20 30 anni fai il porco comodo tuo lo squalo di Wall Street o il sicario dell'economia di Perkins alla fine i risultati ti torneranno indietro perché è tutto connesso e allora sviluppando questa visione diversa del cosmo si spera che svilupperemo anche comportamenti diversi quindi dice Boff un mutamento nella nostra visione del cosmo richiede un'autentica rivoluzione del pensiero una svolta interiore una conversione profonda cioè la modernità finisce almeno questa fase nel momento in cui noi ci rendiamo conto anche tragicamente che non basta andare in giro per il mondo dicendo che siamo tutti fratelli e ci vogliamo tanto bene e che siamo tutti per la giustizia non basta perché dentro ognuno di noi ci sono delle forze contrarie violente c'è una grande aggressività c'è una grande avidità che non è soltanto dello squalo di Wall Street ma è anche mia e se io non la riconosco dentro di me prima o poi proietterò violenza fuori di me proietterò l'ombra sugli altri penserò che sono solo gli altri cattivi penserò che solo gli altri hanno sempre torto penserò che il problema del mondo sono una categoria di persone una razza una classe un ceto mentre il problema nostro è un modo di essere umani che attraversa tutti la rivoluzione è innanzitutto il rovesciamento continuo di uno stato interiore egocentrato se volete proprio una definizione classica dei nostri gruppi noi siamo abitualmente egocentrati cioè centrati su un piccolo io impaurito intimidito che si difende se io non rovescio questo punto di vista se io non rovescio il mio cuore non posso fare la rivoluzione del mondo ma non è intimismo non mi fraintendete questa è come dire la dinamo interiore costante della più grande rivoluzione politica economica e antropologica che mai ci sia stata sulla terra e che noi dobbiamo come dice Schar contribuire a creare e lo dobbiamo fare per sopravvivere non perché siamo buoni non perché siamo moralmente superiori ma perché non abbiamo alternative di sopravvivenza sul pianeta e questo è un altro novum è un altro novum messianico apocalittico che non vogliamo leggere come dice Schar l'uomo non vuole capire non guarda non avete letto l'ultimo rapporto di l'anset che ha pubblicato oggi corriere della sera mi pare o repubblica che cos'altro vogliamo vedere per capire che quello che ci stiamo dicendo qui è semplicemente la realtà che dobbiamo prenderne atto e con grande umiltà ma anche con grandissima speranza ragazzi perché è a portata nostra sta rivoluzione non è sopra di noi non è più grande di noi è la rivoluzione antropologica cui siamo chiamati one by one ognuno di noi la cui alternativa non è soltanto la distruzione del pianeta ma è anche la noia mortale delle nostre vite le nostre vite ridotte a come la pubblicità ce le vuole far vedere o come i talk show ce la vogliono far considerare in cui il problema maggiore sono sempre problemi secondari falsi e secondari ecco possiamo insorgere e dobbiamo prima di tutto lavorare interiormente e creare dei gruppi di esperienza poi dobbiamo creare una cultura dobbiamo diffondere queste idee che sono ancora marginalissime marginalissime ed emarginate e poi dobbiamo creare una massa critica di tipo politico perché alla fine la rivoluzione si fa su quel piano a voi in un suo bel libro intitolato il secolo il francese Alain Badiou ha scritto che l'epoca post 1989 può a giusto titolo caratterizzarsi come una seconda restaurazione ora prendendo questa affermazione con il giusto peso da attribuire alle analogie storiche in effetti l'epoca che si è inaugurata con la data sineddoche del 1989 sembra a tutti gli effetti porsi come una seconda restaurazione in effetti proprio come dopo la prima grande restaurazione vi fu un respingimento totale degli ideali rivoluzionari illuministici e il prevalere connesso dell'idea della conservazione del modo della produzione così mutati smutandi soggi dopo il 1989 nel cuore dell'odierna seconda restaurazione pare che tutti i grandi ideali politici trasformativi antiadattivi e perché no rivoluzionari che avevano attraversato ora apertamente ora carsicamente un secolo breve ma più di ogni altro denso di passione politica siano stati messi in congedo di più siano stati ostracizzati e demonizzati vuoi come intrinsecamente ineffettuali vuoi come sempre immancabilmente pericolosi e portatori di sciagure ecco il modo in cui oggi l'ordine del discorso sempre di nuovo delegittima ogni idea di rivoluzione nel senso prima evocato della trasformazione radicale della frattura con il modo della produzione e dell'apertura a un novum altrimenti strutturato in effetti oggi il discorso dominante continuamente induce i suoi sudditi a ritenere che non sia possibile e percorribile la via della rivoluzione sociopolitica lo fa ora con prestazioni ideologiche ad alto tasso adattivo inducendoci a pensare che l'utopia rivoluzionaria e la violenza siano necessariamente strette in un abbraccio fatale tale per cui ogni idea rivoluzionaria è in quanto tale destinata a sfociare nella violenza ecco allora il proliferare anch'esso niente affatto esente da un patos ideologico di una nevrotica vorrei dire demonizzazione di tutte le esperienze reali o anche solo possibili altre rispetto al modo della produzione in quanto tale il discorso dominante continuamente deve richiamare in maniera nevrotica la nostra memoria le peggiori esperienze del novecento assolutizzandole quasi in una forma di esito inevitabile di ogni tentativo di esodo dal modo capitalistico della produzione ecco allora che nell'immaginario dei giovani specialmente dei nativi a capitalismo integrale le generazioni post 1989 i millennials come vengono definiti l'immaginario occupato dal ricordo ossessivo di Auschwitz e dei gulag come esiti inevitabili di ogni tentativo di uscire dal capitalismo come se quelle tragedie dovessero in quanto tali essere l'esito in cui si procede qualora si esca dal capitalismo per un altro verso il discorso dominante ma in maniera sinergica tende a neutralizzare l'idea di ogni possibile trasformazione assolutizzando l'ordine esistente come intrasformabile è quella che in un mio testo chiamavo l'ideologia dell'inemendabile imperfezione per la prima volta oggi il potere non presenta se stesso come perfetto semplicemente si presenta come intrasformabile fa anzi quasi vanto delle proprie imperfezioni peraltro innegabili evidenti universalmente soprattutto al netto delle crisi sconvolgenti che attraversano il pianeta soprattutto al netto della diseguaglianza sempre più visibile riscontrabile che regna sotto il cielo e tuttavia presenta queste imperfezioni per usare un eufemismo come se fossero fisiologiche quando non naturali e quindi intrasformabili il sistema della produzione guadagna così in ideologia dell'intrasformabilità ciò che perde in estetica della compiutezza questo è l'orizzonte dominante in cui ci troviamo in cui tuttavia mentre procede graniticamente questa ideologia dell'intrasformabilità o questa annessa demonizzazione di ogni progetto utopico trasformativo vi è una classe che è autenticamente rivoluzionaria ed è la classe dei signori si sarebbe detto una volta con le grammatiche di Hegel e poi di Marx la classe del signore è l'unica classe oggi autenticamente rivoluzionaria in un suo bel libro degli anni 90 con sguardo letteralmente profetico Christopher Lasce il libro si intitolava la rivolta dell'elite prevedeva esattamente ciò che oggi è divenuta realtà quotidiana ossia che la sola classe rivoluzionaria esistente è quella dei dominanti l'unica che effettivamente compie le sue rivoluzioni non certo per superare il modo della produzione bensì per consolidarlo e per volgerlo sempre più a proprio favore a colpi di riforme a colpi di trasformazioni volte a intensificare sempre più il dominio di suddetta classe che per inciso non è più la vecchia classe borghese del modo classico della produzione capitalistica ma che invece è una classe post borghese finanziaria di speculatori sans frontiere di bancocrati che si muovono nello spazio liscio della mondializzazione sconfinata di signori globalisti che stanno annientando grazie alle loro rivoluzioni giusto appunto la vecchia classe lavoratrice il vecchio ceto medio sempre più unificati nella miseria che scontano sempre più unificati nella pauperizzazione a cui sono sottoposti con metodica continuità dai dominanti ecco allora che può giovare a richiamarsi brevemente a quanto scriveva Carlo Marx nel terzo libro del capitale un Carlo Marx inedito potremmo dire un Carlo Marx diverso dalla vulgata a cui siamo abituati il Carlo Marx che prevede una rivoluzione nel capitalismo ma una rivoluzione che non porterà all'avvento del comunismo ciò che invece in altri testi più noti Marx sostiene ma che porterà invece a un potenziamento del capitalismo stesso vi ho un passaggio nel terzo libro del capitale che sarà poi pubblicato da Federico Engels dopo la morte di Marx in cui Marx si immagina un superamento rivoluzionario del capitale all'interno del modo stesso della produzione capitalistica precorrendo di fatto con una certa precisione debbo dire l'avvento dell'odierno capitalismo finanziario e della sua classe di rivoluzionari globalisti dice Marx il modo della produzione capitalistica si supera con l'avvento di una nuova classe che distrugge i fondamenti stessi del vecchio modo della produzione capitalistica quello composto da produttori borghesi e lavoratori proletari la nuova classe che Marx non esita a qualificare come finanza aristocrazia letteralmente aristocrazia finanziaria è la nuova classe egemonica quella il cui dominio si fonda sulla rivoluzione costante del modo della produzione di modo che esso si mantenga e si intensifichi di modo che ancora una volta il proprio dominio di classe si rafforzi sempre di più questa classe Marx la chiama aristocratica evidentemente in riferimento al fatto che per la prima volta i dominanti nel capitalismo a differenza dei vecchi borghesi per i quali il valore del lavoro era pur sempre conclamato si pensi a ciò che scrive Hegel a proposito del valore del lavoro per questa classe come per l'aristocrazia pre-rivoluzione francese il lavoro non è più un valore vivono di rendita finanziaria dice letteralmente Marx la rendita torna a essere il fondamento del modo della produzione in una sorta di inedita commistione fra feudalesimo e capitalismo questo è il nostro scenario oggi ed è per questo che occorre come dicevo in apertura diffidare della parola così ubiquitariamente presente nel dibattito pubblico di rivoluzione che fare rispetto a questo che fare se guardiamo dal basso e non dall'alto guardare dal basso significa anzitutto tornare a chiamare le cose con il loro nome sia chiaro smarcarsi dall'ordine simbolico egemonico con cui i dominanti manipolano e tengono in ostaggio le menti dei dominati significa tornare a chiamare le cose con il loro nome sfruttamento anziché modo della produzione basato sul lavoro imperialismo anziché missioni di pace e così via si può proseguire liberamente occorre perché questo sia possibile a mio giudizio anzitutto a livello mi muovo qui a livello teorico-filosofico non entro nel campo filosofico-politico invece variare il coefficiente di inevitabilità se è vero come è vero che oggi la visione l'immagine del mondo il wealth build del nostro mondo è basato sull'idea di una necessità mistica che si fonda sull'idea dell'intrasformabilità come ricordavo poco anzi da cui il fiorire e il proliferare dei realismi il cui solo obiettivo è quello di far prevalere un assolutismo mistico della realtà come non plus ultra a cui bisogna adattarsi passivamente e di più cadavericamente occorre tornare a far fiorire il senso della possibilità come fondamento dell'essere la realtà non è soltanto ciò che c'è ma è ciò che c'è più ciò che potrebbe essere le possibilità incorporate nella realtà stessa occuparsi di futuro di rivoluzione di utopia di ciò che ancora non c'è disse Ernst Bloch nel suo principio speranza in fondo non significa altro che occuparsi del presente del presente però inteso non come mera presenza data passiva che sta dinanzi a noi che chiede di essere accertata e accettata accertata scientificamente e accettata politicamente secondo un connubio inedito di adequazio mentale politica occorre invece pensare l'essente come possibilità come frutto di un processo storico ritmato dalla prassi e dalla storia e quindi tornare a pensare l'essere come possibilità spezzando la mistica della necessità con cui invece il discorso dominante presenta l'essere come intrasformabile come qualcosa di dato a cui adattarsi ecco per fare questo occorre anzitutto compiere una rivoluzione copernicana per tornare al nostro tema nel modo comune di pensare significa defatalizzare l'esistente significa tornare a una diversa visione dell'essere una visione che con Hegel e con l'idealismo potremmo definire con la formula della mediatezza del porre cioè pensare l'essente come qualcosa di posto che sta dinanzi a noi non perché è dato e sta lì ma perché è l'esito di un processo storico di uno sviluppo e il risultato di un processo in quanto tale non è qualcosa di dato eternamente ma di posto in quanto tale di trasformabile ecco allora che credo che la prima rivoluzione fondamentale in ciò sono pienamente d'accordo con quanto è stato detto in precedenza sia la rivoluzione culturale che dobbiamo svolgere a partire da noi variare la nostra visione dell'essere liberarci da quelle categorie che tengono prigioniere la nostra mente prima tra tutte la visione dominante a livello ontologico di cui tutti siamo vittime anche coloro i quali mai si sono occupati di filosofia per intenderci subiscono in maniera coattiva l'imperativo ontologico del nostro tempo la visione generalizzata che pensa l'essere come intrasformabile ecco allora che credo che si tratti di ripartire dalla filosofia per questo oggi la filosofia è così importante per questo oggi la filosofia svolge un ruolo così decisivo e per questo lasciatemi dire eventi come quello di stasera mi pagliano importanti più di tutte le rivoluzioni con cui il nostro presente celebra se stesso e per cui un amico come Gustavo è letteralmente un uomo rivoluzionario oggi con questo processo culturale che fa detto questo il discorso sarebbe ancora molto lungo ma credo che ci siano qui i fondamenti per una possibile discorso bene dopo queste due belle introduzioni vediamo se ci sono delle domande da parte vostra penso ecco la prima mano alzata qua salve se ho ben capito per fare in modo che una rivoluzione abbia energia funzioni bisogna prima creare un uomo nuovo una nuova antropologia il cambiamento deve essere interiore ed economico spirituale e politico quindi questi due piani devono sincronizzarsi per fare in modo che storicamente funzioni questa cosa però per un cambiamento antropologico ci può volere molto tempo abbiamo tutto questo tempo ne raccogliamo un paio vediamo la prossima professori buonasera io immagino la serata rappresentata in questa maniera due colonne alla base alla base di queste colonne c'è una visione di rivoluzione messianica e dall'altra parte c'è una visione marxista chi unisce queste due colonne è un architrave che si chiama rivoluzione però sopra questa architrave c'è un architipo che è ancora più ancora superiore e io lo chiamo speranza la speranza intesa come virtù cardinale ha un significato ma Agostino di Pona dice che la speranza ha generato due figli uno è il coraggio e l'altro è la rabbia il coraggio e la rabbia unite insieme generano una rivoluzione la rivoluzione messianica finisce nel 313 con Costantino la rivoluzione marxista finisce e comincia nel 1917 e finisce nel 1989 io vedo in questo momento che fra vent'anni dieci anni non lo so io non ci sarò più però vedo una nuova rivoluzione che riprenda ancora questi valori la rabbia e il coraggio e la rabbia e il coraggio nonostante che il mio amico Minniti al quale voglio molto bene arriverà solo con i barconi grazie Minniti il ministro il ministro dell'interno si parla di filosofia penso un filosofo che non conoscevo non fare il furbo dai io conosco solo il ministro dell'interno altri io sono ateo quindi mi trovo evidentemente più d'accordo con l'esposizione di Fusaro rispetto all'idea messianica della rivoluzione che ha fatto Marco Gussi io ho un'idea e anche un pensiero che nei secoli futuri è anche una speranza che l'umanità si sarà liberata che si sia liberata nei secoli futuri di tutte le religioni Bertrand Russell poco meno di 100 anni fa diceva che tutte le religioni così come sono false sono dannose io però adesso scusate voglio farvi a tutte e due i relatori un piccolo appunto che non è di carattere filosofico ma è di carattere scientifico quando tutte e due avete una volta per uno accennato alle rivoluzioni planetarie alle rivoluzioni astronomiche avete parlato di circolarità dei pianeti di circolo noi sappiamo da meno di 400 anni poco meno di 400 anni che l'orbita dei pianeti non è un circolo ma è elittica lo stesso lo stesso lo stesso Galileo lo stesso Galileo è morto nella convinzione che l'orbita dei pianeti fosse un circolo pensate lui era talmente innamorato un personaggio come Galileo quello che era Galileo sul piano scientifico ma non solo è stato anche un grande scrittore Galileo lui era innamorato della figura della geometria il circolo era la figura più perfetta e quindi non riuscì a digerire che l'orbita dei pianeti fosse elittica grazie Silvio prego in ultima c'è un ragazzo che aveva chiesto ho una domanda per Guzzi che approfondisce la prima domanda mi è sembrato di trovare una contraddizione quindi se me la può spiegare lei dice da una parte che c'è urgenza di questa rivoluzione che siamo sull'orlo di un barato che è necessaria dall'altra ha detto che è una rivoluzione invece che si caratterizza che necessita di un periodo lungo di secoli quindi se mi può spiegare questa cosa qua invece a Fusaro esco dal tema della serata è più una curiosità le volevo chiedere c'è un motivo per cui lei parla in quel modo cioè perché lei usa un un lessico molto particolare e volevo capire se era una una scelta pensata se ha una una motivazione alla alla base per fare pensare per non non so è una curiosità che ho da quando la sento parlare allora iniziamo con prego quanto tempo abbiamo per le domande? 5 minuti mi prendo i 5 minuti dunque partendo da quest'ultima domanda in effetti questa domanda mi fu posta anche da Librandi non so quanto le faccia onore se l'ha costato a Librandi in tutto questo ad ogni modo la pose anche Librandi io risposi garbatamente che il mio è italiano voglio dire non mi pare di aver il fatto non so quanti anni abbia lei il fatto che lei probabilmente si stupisca del fatto che io parlo italiano magari utilizzando termini anche ricercati e desueti e magari non si stupisca del fatto che all'università o in televisione usino anglicismi come se fosse naturale è preoccupante questo capisce la dice lunga sui processi di involuzione in atto per cui lasciatemi dire al di là di ogni retorica che se oggi stiamo assistendo all'imporsi di una neolingua liberista che ci impone di parlare solo English e non British anzi Globish cioè l'inglese globalizzato con le parole dei mercati Spending Review Austerity io reagisco reintroducendo una veterolingua che non prevede soltanto l'uso dell'italiano e dell'italianizzazione ove possibile delle parole ma che anche in compresenza di due termini italiani usa sempre il più arcaico questo sembra una sciocchezza ma in realtà è il modo con cui Sallustio nella congiura di Cattilina reagiva alla corruzione dei suoi tempi richiamandosi a un lessico che non veniva più utilizzato e che invece era il fondamento poi chi vuole parlare inglese lo faccia pure però la sovranità linguistica anzitutto sulla religione io sono io odio le etichette specie quando vengono riferite a me ovviamente io non mi ritengo né marxista né messianico né tutte le cose le belle categorie che avete utilizzato e che vi prego di non applicare al sottoscritto ve lo chiedo in ginocchio proprio non definitemi disse Kierkegaard se i miei etichetti mi annulli ecco quindi non annullatemi ve lo chiedo come favore metodologico ci ho detto le religioni quello che le ha detto sulle religioni è sideralmente distante dal mio modo di pensare lo ritengo non solo falso e sbagliato perché la religione insieme all'arte e alla filosofia fa parte dello spirito assoluto e quindi fa parte dell'uomo in quanto tale non dell'uomo di oggi di ieri o di domani dell'uomo come natura umana come figura antropologica fondamentale quindi ogni tentativo di rimuovere la religione l'arte o la filosofia significa di fatto amputare l'uomo di una sua componente fondamentale ma poi di più e quanto di più organico vi sia i processi del capitalismo oggi che sta distruggendo infatti tutte le religioni islamica e cristiana in primis per imporre un nichilismo generalizzato o meglio una nuova teologia che abbia come unico dio solo il mercato e la forma merce per cui dopo l'89 sono convinto che venuti meno i comunismi venute meno le forme di resistenza al capitalismo il capitalismo abbia oggi dichiarato guerra alle religioni sul piano simbolico per imporre il piano liscio della forma merce senza alto né basso ma solo con scorrimento illimitato e sul piano politico abbia dichiarato guerra agli stati sovrani nazionali come ultimi fortilizi della democrazia e dei beni comuni solidali ostacolanti le privatizzazioni per cui quello che le ha detto sulla religione è a mio modo di vedere totalmente sbagliato quindi questa è la mia modesta prospettiva su questo tema e quindi questo mi fermo 5 minuti esauquati è un problema è proprio un grosso problema cioè c'è un'urgenza anzi un'emergenza ma ciò che siamo chiamati a fare in realtà richiede un tempo molto lungo ora però dovremmo capire che questa che sembra una contraddizione è in realtà un archetipo e a mio parere è l'archetipo impensato della rivoluzione Gesù quando arriva sulla terra qui la fede può non centrare niente ragazzi parliamo di cultura se parliamo di schema messianico parliamo di cultura uno può anche credere che sia solo una creazione dell'uomo ma che la cultura messianica abbia influenzato tutto l'occidente e tutta la cultura rivoluzionaria dell'occidente è un dato di fatto non è che io per questo debbo essere cristiano io posso anzi c'erano tantissimi rivoluzionari messianici anticristiani però se poi noi li analizziamo filosoficamente culturalmente ci rendiamo conto che sono nutriti di visioni messianiche vogliono cambiare il mondo lo abbiamo detto già l'idea di cambiare il mondo non è affatto neutrale l'idea di cambiare il mondo è già messianica in un orizzonte aristotelico cambiare il mondo è un non senso il mondo è eterno e immodificabile capisci? quindi anche qui come dice Fusaro bisogna pensare meglio i concetti che utilizziamo spesso in modo acritico capire che se noi diciamo cambiare il mondo siamo già dentro una rivelazione siamo già dentro dei presupposti molto corposi molto e per niente scontati che dobbiamo recuperare capire se ci stanno bene a questo punto li dobbiamo scegliere a questo punto noi se vogliamo fare la rivoluzione dobbiamo decidere di essere messianici capire che vogliamo essere messianici perché vogliamo cambiare il mondo e a questo punto anche cercare di capire che vuol dire però essere messianici quindi nell'orizzonte messianico questo paradosso è intrinseco Gesù quando arriva dice il tempo è compiuto basta è finito questo mondo è finito io sono già un altro mondo io sono già il regno presente eccolo qua è già iniziato questo mondo è finito parla l'emergenza parla un linguaggio apocalittico uno dice infatti le prime generazioni erano convinte che il mondo stesse per finire addirittura San Paolo ancora è convinto che Gesù sarebbe ritornato essendo lui vivo poi stiamo comprendendo di secolo in secolo e di millennio in millennio che questo tempo intermedio come viene detto cioè questo tempo tra la scomparsa fisica di Cristo e il suo ritorno cioè il tempo messianico ha una sua modalità d'essere e la modernità interamente io la leggo come una faticosa interpretazione del significato del tempo messianico cioè che cosa succede nel tempo intermedio tra l'ascensione di Cristo e il ritorno che cos'è qual è il senso della storia la filosofia della storia che nasce più o meno nella seconda metà del settecento quindi non è un dato di fatto naturale Herder viene considerato uno dei padri io ho tradotto il giornale di viaggio del 1769 quindi è piano piano che noi messianici o cristiani inconsci o consci ci stiamo chiedendo ma che cosa succede in questo tempo che cosa siamo chiamati a fare questo tempo noi lo valutiamo come sempre più significativo più andiamo avanti cioè la modernità per esempio dà un valore molto più importante al tempo della storia rispetto al medioevo la storia diventa un luogo teologico appunto un luogo filosofico di cui si deve indagare il significato c'è un senso dentro la storia non è soltanto come dire un tempo morto perché tanto mo' torna il Cristo e instaura il regno no l'instaurazione del regno accade nella storia quindi la storia ha un senso perché il regno accade processualmente progressivamente contraddittoriamente però non in una progressività no come Leopardi prendeva in giro no le sorti progressive un'autostrada del sole no il processo evolutivo e di salvezza è conflittuale è ambiguo chiaroscuro e non ne conosciamo i tempi perché alla domanda che gli fanno a Cristo quando accadrà tutto ciò lui dice non lo so manco io il nostro compito non è tanto farci questa domanda ma è fare la rivoluzione ora la rivoluzione è l'atto continuo è qui gentile un po' che ti piace tanto penso che condividerebbe questa idea è l'atto del pensiero creativo continuo che supera continuamente se stesso cioè il dato il pensato questo questa è la rivoluzione e trasformare questo atto in processi anche storici concreti sociali economici ma portandoci dentro questo atto creativo continuo ci saranno catastrofi boh già ce ne sono state tante noi veniamo da un secolo catastrofico non è che il ventesimo secolo sia stato un secolo tranquillo se poi tu mi chiedi così una previsione su un livello più basso purtroppo io temo che questo prossimo secolo ci dovrà confrontare con dei momenti molto aspri ma questo non cambia nulla del mio stato interiore e di quello che devo fare io oggi e domani è sempre la stessa cosa Bonhoeffer diceva quando tornerà Cristo mi troverà a lavorare per il regno ecco altre domande io mi trovo perfettamente d'accordo con la lettura di Fusaro la lettura astronomica del concetto di rivoluzione quindi la ricorrenza e tutto sommato la immutabilità del processo rivoluzionario vorrei fare però un appunto sul discorso della messianicità della rivoluzione quella messianica è un'evoluzione non è certo una rivoluzione e in questo modo allora possiamo pensare anche che ci sia qualche cambiamento nel futuro anche se non siamo in grado di ipotizzarlo quindi per citare voi avete citato la rivoluzione permanente ma è un concetto che già Mao Zedong aveva in qualche modo proposto ma l'evoluzione creatrice è qualcosa di diverso che può portarci a qualcosa di diverso nel nostro futuro altra domanda salve guardando un po' le cose da un po' più lontano volevo chiedere ai due relatori abbiamo un po' delineato qual è il contributo dei moderni e della cultura messianica sulla rivoluzione su questo concetto ha radici anche nel mondo greco o è slegato dalla cultura greca mi riferisco io penso a due tragedie grosse edipo re e l'antigone edipo re nel senso ogni rivoluzione per edipo è impensabile come forse per aristotele però edipo è l'archetipo io qualunque cosa faccia alla fine c'è il destino io vado lì mentre l'antigone è vero che c'è questo destino però però c'è una legge che è quella degli dei che io devo seguire e questa legge mi fa mi spinge a lottare forse anche contro la la legge degli uomini forse anche contro ciò che io penso che sia immutabile come un accennava Fusaro e quindi c'è un po' questo contributo che a me pare ambivalente della cultura greca sul concetto di rivoluzione e volevo un po' avere un vostro parere un vostro chiarimento sul fatto dunque quanto alla prima domanda se ho inteso bene il senso della domanda e non equivoco su quanto è stato chiesto direi che in estrema sintesi la domanda riporta la distinzione fra evoluzione e rivoluzione o se preferite tra processo di riformismo e processo rivoluzionario da un certo punto di vista vecchi temi cari al marxismo ad esempio oggi a mio giudizio il modo della produzione così com'è non è riformabile può solo essere trasformato in maniera rivoluzionaria però per rivoluzionaria appunto come si diceva anche in precedenza non vuol dire l'uso delle armi o della violenza significa appunto che vada a incidere sulle strutture del modo della produzione ecco questo vuol dire rivoluzionario anzi paradossalmente ci possono essere eventi con grandi spargimenti di sangue che non incidono minimamente sugli assetti fondamentali del modo della produzione e viceversa eventi totalmente non violenti che vanno a trasformare radicalmente il modo della produzione per cui se questa era la domanda se ho inteso bene se ho decifrato risponderei così sulla seconda questa è una vexata questio per usare un'altra espressione che disturberà l'amico di qui sopra è una vexata questio nel senso che è in atto da molto tempo un dibattito tra gli storici fra i grecisti fra anche tra i filosofi peraltro se il mondo greco conoscesse l'idea di progresso e quindi conoscesse anche l'idea di rivoluzione o qualcosa di simile perché appunto lei ha utilizzato più volte l'espressione rivoluzione ad esempio in riferimento a Edipo o ad Antigone ma la domanda è qual è il termine greco per dire rivoluzione ci sono è vero dei termini che possono essere ricondotti in qualche misura all'idea di un cambiamento radicale però manca nel lessico greco l'equivalente del moderno concetto di rivoluzione ad esempio in un'importante opera sul concetto di storia nell'antichità classica l'opera appunto di Santo Mazzarino sul pensiero storico classico si diceva esattamente in una lunga nota che viene sempre ricordata perché occupa forse la nota più lunga della storia dell'umanità è una nota a piedi pagina che dura per più pagine per molte pagine una cinquantina di pagine si discuteva proprio di questo in quella nota se i greci conoscessero l'idea di progresso e di rivoluzione lui essenzialmente giungeva alla conclusione a mio giudizio tutto sommato ragionevole anche se come dire una non conclusione da un certo punto di vista secondo cui per i greci la concezione del tempo è una concezione aporetica in cui il tempo non è di per sé né portatore di novità e miglioramento né portatore di catastrofe o di regresso è qualcosa di strutturalmente non portatore di un senso perché poi è tipico della modernità invece tendere ad applicare allo scorrere del tempo un senso specifico ecco come se nello scorrere stesso del tempo vi fosse il dispiegarsi di un senso è quello che fanno le filosofie della storia poi nella modernità essenzialmente quindi il discorso sulla rivoluzione sulla temporalità nel mondo greco è molto come dire difficile procede sempre storicamente nel senso che tutte le volte che lo si è affrontato si è risolto poi così di fatto individuando analogie riferimenti che possono alludere in qualche modo alla rivoluzione ma non si è mai stati in grado di trovare l'equivalente del concetto di rivoluzione proprio perché in fondo per il mondo greco non vi era nemmeno l'idea che abbiamo noi dalla modernità in poi di storia come processo unificato come scorrere unificato infatti gli storici greci intitolavano le loro opere al plurale sempre le storie la pluralità degli accadimenti non c'era la storia come corso lineare sottoposto a possibili rivoluzioni certo vi erano progressi rotture magari acquisizioni di novità nello sviluppo della tecnica ma non vi era mai una rivoluzione concepita come rottura di un'epoca rispetto a un'altra c'era talvolta l'idea di un futuro o di una novità comunque nei discorsi appunto nel spedgete tucidide l'idea degli attenesi è quella di essere aperti al futuro loro sì a differenza delle altre polis noi siamo quelli che guardano sempre alle trasformazioni ma non c'era l'idea di una rivoluzione o della storia in quanto tale ecco quindi direi così si possono certo ci sono vari studi su questo tema che hanno appunto mostrato le analogie fra il pensiero greco e quello moderno per il concetto di rivoluzione ma non c'è mai un termine che dica il medesimo sì sì è giusto credo che se vogliamo parlare in senso più teoretico filosofico la domanda è proprio sull'essere l'evento cristico presume e pretende di essere nell'essere un cambiamento un incremento dell'essere radicale quindi come dire se c'è un tempo orizzontale un tempo che procede però esiste come un accadimento un qualche cosa che irrompe una verticalità che irrompe in questa linearità e la incrementa cioè cambia l'essere ora in realtà noi questa cosa non l'abbiamo mica capita quando il Cristo è nato ed è morto ed è risorto credo che la stiamo incominciando molto lentamente a capire nella modernità cioè abbiamo incominciato a capire la storicità dell'essere e quindi questo cambiamento incrementato dell'essere ma poi è sicuramente almeno secondo me è Heidegger che ci ha aperto gli occhi in modo definitivo sulla natura epocale del darsi dell'essere per cui l'essere si dà in maniere differenziate epocali non deducibili una dall'altra attraverso eventi che accadono e trasformano l'essere e il pensiero dell'essere nella loro indissociabilità detto questo quindi io credo che la grecità non sia interpretabile in una maniera neutrale rispetto all'evento di Cristo cioè se è vero quello che stiamo dicendo vale pura per la grecità quindi dal punto di vista messianico e cristologico noi dobbiamo rileggere il mistero del fatto che i Vangeli poi vengano scritti in greco che il primo verso del Vangelo di Giovanni dica enarche enologos utilizzando due termini classici della filosofia greca l'arche e il logos quindi noi come dire a posteriori eghelianamente alla fine della storia riusciamo a capire anche il senso secondo me misteriosamente progressivo del rapporto fra la grecità e la cristicità capisci? quindi secondo me in Grecia si creano dei presupposti fondamentali come un grembo perché poi quell'impulso ulteriore possa diciamo accadere nel grembo diciamo greco-romano greco-romano ebraico evidentemente e poi svilupparsi in questi duemila anni e arrivare a questo punto qua in cui ci troviamo noi che ci chiama ad una sintesi inedita di tutta questa storia che richiede però anche di rileggerla tutta questa storia quindi io credo che tu abbia colto molto bene specialmente nell'antigone un presupposto di novità anche se poi l'antigone le cose tornano in qualche modo nell'ordine anche se però questo ordine è stato trasgredito cioè la legge viene contestata in nome di una giustizia che non si sa a che cosa faccia appello e questo è già una trascendenza paracristica dal mio punto di vista insomma che prepara una rivelazione di una libertà dell'uomo che supera la storia che supera il tempo che supera ogni legge anche religiosa il figlio dell'uomo è signore anche del sabato quindi quello che hai aperto è un tema immenso che d'altra parte come è stato detto è stato studiato per secoli da picco della mirandola ci ha riflettuto tutta la vita Marsilio Ficino tutta la vita per dire ma poi tutto l'idealismo ha riflettuto Schelling sul rapporto fra la grecità e il cristianesimo è un tema fondamentale per andare avanti perché noi siamo secondo me in una soglia ulteriore che tra l'altro si trova nel punto di innesto non più solo con la Grecia con la romanità ovviamente e con l'ebraismo ma anche con tutte le altre rivelazioni storiche del pianeta con l'induismo noi non possiamo non fare ecco Romano Guardini per dire un grande teologo del novecento parlava dell'antico testamento greco e dell'antico testamento asiatico cioè Buddha è un antico testamento asiatico e la Grecia è un antico testamento non c'è solo l'antico testamento ebraico questo ovviamente dal punto di vista cristologico e messianico però anche da un punto di vista culturale questo andrebbe riflettuto perché quando noi parliamo di civiltà quando noi diciamo è una questione di civiltà di che cosa parliamo cioè di quale civiltà parliamo io voglio che mi si dica il nome e il cognome mi si chiarisca perché come dice Fusaro quello che io vedo è una civiltà dove vale soltanto il mercato o preeminentemente quello a quale civiltà facciamo riferimento dobbiamo aprire una discussione pubblica su questo e questa è rivoluzione innanzitutto ringrazio i nostri i nostri relatori scusa una domanda molto semplice mi interessa proprio capire la conclusione un po' della serata dunque io mi porto a casa di Fusaro sicuramente un senso critico e una maggiore rivisitazione di quelli che sono alcuni valori storico politici attuali e del professore Guzzi sicuramente questo nuovo spirito di rivoluzione e anche di socialità e di nuova versione visione dell'umanità però mi chiedo molto semplicemente da persona anche molto pratica come posso articolare nel mio pane quotidiano per usare un elemento cristico nella vita di tutti i giorni come molti di noi che vogliono e vorrebbero iniziare da qualche parte la loro rivoluzione quotidiana e sociale va bene il senso critico va bene ma da dove cominciamo dalle scelte che faccio quando vado a comprare dal tipo di mercato che devo più o meno appoggiare dagli investimenti se ha qualcosa da investire in una banca da un tipo di scelta ecologica come guardo la nostra società gli immigrati che fino all'altro giorno mi erano amici oggi li devo vedere come nemici non ero razzista ma lo sono diventata non so come improvvisamente mi trovo una società che è la nostra in cui non mi riconosco come mi sembra voi abbiate detto e mi ritrovo che se guardo a certe società primitive tra virgolette africane o di altre culture esistono dei valori che noi neanche neanche purtroppo sappiamo dove stanno di casa non esiste il senso della pazzia la gente non hanno i manicomi non ci sono i disoccupati mangiano il senso della domanda eccetera eccetera quindi grazie per un'ulteriore indicazione grazie mille sono le 11 e 5 allora guarda personalmente da vent'anni proprio perché queste domande alla fine emergono mi sono impegnato nella umile ma concreta realizzazione di gruppi di persone che si riuniscono hanno un percorso sono potremmo dire siamo noi tra smigranti antropologici che cercano però di condividere i travagli immensi e le difficoltà che tutti conosciamo questo è a parte i miei gruppi darsi pace ma in generale secondo me noi dobbiamo lavorare su aggregazioni su aggregazioni perché è proprio ciò che non vogliono che accada i poteri di questo mondo vogliono individui atomizzati e masse le schizomasse di Deleuze cioè gente disperata isolata che non ha più nessuna voglia di mettersi insieme che dispera e quindi è ben dominabile quindi dobbiamo proprio fare subito il contrario cioè creare aggregazioni e secondo me ci sono tre cerchi concentrici che debbono interagire tra loro e che debbono essere in qualche modo elaborati animati continuamente il primo è proprio il luogo della nostra trasformazione interiore perché vedete io lo dico ogni volta che vengo qua se io non avessi i miei gruppi e la mia vita interiore se io non avessi le mie pratiche quotidiane io sarei già diventato pazzo anche perché i miei maestri sono diventati pazzi tutti quindi quindi se io non avessi diciamo 4, 5, 6 ore al giorno di pratiche se io non avessi 100, 200 incontri dei miei gruppi in cui poi lavoriamo sulla carne sulle paure sui desideri sul cuore e chi ce la fa? io no non ce la faccio ad avere la lucidità che mi serve quindi la prima aggregazione deve essere un'aggregazione io direi iniziatica nel mio linguaggio cioè che tenga conto dei problemi personali profondi delle persone perché oggi c'è anche questo di cui non si parla mai cioè c'è uno sbandamento psicoesistenziale immenso una crisi di significato di identità eccetera eccetera quindi questo è il primo cerchio da questo primo cerchio che però deve essere sempre vivo perché secondo me se no andiamo allo sbando dobbiamo animare come dicevo una cultura condivisa cioè dobbiamo parlare di queste cose e imporre imporre con la forza del pensiero e della parola l'ordine del giorno diverso dei ragionamenti dobbiamo combattere per avere spazi nei mass media grazie a Dio che c'è internet creare eventi come questi lodevoli ma tanti altri a me capita da trent'anni ovunque vado di trovare questo anelito e di trovare sempre meno corrispondenza fra l'anelito del popolo e ciò che i poteri anche culturali dominanti offrono quindi dobbiamo lavorare sul cerchio concentrico della cultura condivisa della cultura di massa in senso positivo cultura del popolo e poi c'è il terzo anche questa è un'aggregazione anche il secondo implica aggregazioni e poi c'è l'aggregazione fondamentale come dicevo che è politica dobbiamo lavorare affinché queste idee possano entrare anche in certe dimensioni politiche lì dove ancora le persone che si occupano di politica pensino e questo non è affatto scontato ci sia cioè una disponibilità ad affrontare i problemi concreti delle persone e a livello micro e macro quindi c'è un bisogno di partecipazione democratica rivoluzionaria cioè la democrazia nella sua verità è rivoluzione permanente la democrazia non è mai realizzata compiutamente perché la democrazia è un progetto messianico mi dispiace ragazzi è il progetto se uno legge la costituzione italiana la giustizia l'uguaglianza la libertà assoluta vabbè questi sono i contenuti della speranza messianica secolarizzata quanto volete ma questo è ma questi contenuti non saranno mai pienamente raggiunti noi non non realizzeremo mai una società totalmente libera totalmente giusta no quindi la democrazia è questo mirabile strumento di rivoluzione permanente dell'umanità se questa infatti non è una democrazia evidente questa è una democrazia camuffata no cioè è la democrazia ridotta alla agli strumenti formali ma la democrazia non è soltanto la libertà di voto basta leggere anche la nostra costituzione è ben diversa l'articolo 3 dice cose molto ben diverse lo scopo dello stato italiano della repubblica è l'eliminazione di tutti gli ostacoli sociali e culturali per la piena realizzazione della persona umana questa è lo scopo della democrazia quindi noi dobbiamo partecipando partendo dal livello interiore alimentando un livello culturale che diventi discorso di massa che faccia tremare i potenti dai troni arrivare ad una massa critica democratica e partecipata che sappia cambiare anche le cose di più non so io non posso dirle cosa lei deve fare o non fare posso dirle cosa faccio io se me lo chiede le può interessare poi non pretendo di avere formule universali per cambiare i mondi semplicemente io credo che occorra più che mai ripartire dalla filosofia come ho cercato di dire di scrivere di ripetere come appunto visione olistica come visione di insieme del nostro mondo senza la filosofia non si va da nessuna parte a mio modestissimo modo di vedere per questo chi pensa di partire con la politica è destinato a far poca strada nella migliore delle ipotesi a precipitare nell'abisso nella peggiore bisogna ripartire dalla cultura e dalla filosofia per mettere insieme una nuova visione delle cose che abbia chiaramente una portata sociale come giustamente si diceva perché finché uno ha le sue pensate individuali è irrilevante in primo luogo e poi resta isolato il problema per per i potenti chiamiamoli così per il sistema della produzione è quando le idee si socializzano quando comincia a crearsi un'egemonia alternativa rispetto a quella dominante su questo bisogna lavorare ben sapendo che ci saranno appunto continui ostacoli e continue opposizioni rispetto a questo appunto perché è naturale chi pensa che la cultura sia il luogo della pacifica accumulazione del sapere o del pacifico scambio tra interlocutori che si amano e si rapportano semplicemente secondo l'agire comunicativo o è in cattiva fede o è ingenuo la cultura è il campo delle lotte il campo è un campo di lotta in cui si prende coscienza delle proprie condizioni obiettive ci si scontra tra visioni del mondo diverse che non mettono capo solo a interessi diversi evidentemente ma anche a concezioni profondamente diverse io nel mio piccolo oltre a scrivere a studiare a insegnare ho creato una piccola associazione culturale non politica che si chiama l'interesse nazionale da lì partiamo con la cultura per chi si avrà tempo e voglia cosa mi porto a casa stasera beh si porti a casa questo riferimento all'associazione culturale di cui stiamo dicendo appunto non ho altro non ho altro da dire adesso la domanda che fare è sempre la più imbarazzante perché è una domanda con questi consigli di Guzzi e di Fusaro chiudiamo questa bella serata vi ringrazio ancora per la grande partecipazione e l'appuntamento è per venerdì prossimo con Carlo Sini grazie a tutti grazie a tutti